Migranti autoctoni, primo punto. Secondo punto, la piazza di Milano è straordinaria da un certo punto di vista perché con le bandiere arcobaleno e non più con le falci al martello, perché con le bandiere dell'Unione Europea cioè del sistema finanziario, rivela come ormai i centri sociali e le sinistre debbano essere intitolati non a Carlo Marx o a Gramsci, bensì direttamente a Soros, a Rockefeller, a JP Morgan hanno fatto loro tutti i motti della destra liberista e turbomondialista libera circolazione delle merci e delle persone mercificate anch'esse prima le merci sempre, è il grande motto del capitale questo bisogna averne coscienza e contezza La fermo perché voglio sentire migliore proprio su questa specifica accusa